Conosco bene questo mondo parallelo. Per la solidarietà, l'arte e come in questo caso soprattutto la musica, l'obiettivo è più raggiungibile. Io credo che la musica in particolare sia una grande medicina che possa curare ferite come questa. La solidarietà ha bisogno della musica, la musica può risolvere veramente tanti tanti problemi. Usiamo la musica. In questo tempo rimane di più il nostro anno fra la guerra e l'unità. Dal conservatorio d'università la bicicletta non va. E tu che aspetti il mio, con i capelli giù, io ricarizzero, se tu che è il nostro, che è qui, che è qui. La radio trasmetterà la canzone che ho pensato per te e forse attraverserà l'oceano lontano da noi. L'ascolteranno gli americani che proprio ieri sono andati via e con le loro femmini e fiori volano le nostre vie e i nostri giorni di primavera che propongono dei tuoi capelli e dei tuoi occhi così belli spalancati sul futuro e chiusi su di me. e non è cento e cinquanta e non è cento e cinquanta e non è cento e cinquanta e quest'anno tu sarai il femminile e tutto quest'anno è come un pallone per tiro di lento e che bello effettuale vuoi se non hai due soldi trovato il distrito di Chiorno Basco per tornessi al mare di questa città alle onde e agli spruzzi che escono fuori dalle nostre fontane e se c'è un po' di tempo dannerai mentre aspettiamo al nostro via la radio trasmetterà la canzone che ho pensato per te e forse attraverserà l'oceano lontano da noi l'ascolteranno gli americani che proprio ieri sono andati via e pone loro che mi c'è fiori coloro le nostre vie e i nostri giorni di primavera che profumano dei tuoi capelli e dei tuoi occhi così belli spalancati sul futuro e chiusi su di me e ti amo e ti amo porto al sole questo sole che sembra vicino o se non la voglio un bambino nei nostri giorni di primavera lo penseremo come una canzone se non la ti porto al sole o se non la ti porto al mare la radio trasmetterà questa canzone che ho pensato per te e forse attraverserà l'oceano lontano da noi l'ascolteranno gli americani che proprio ieri sono andati via o se non la ti porto al mare e ti porto via l'ascolteranno gli americani che proprio ieri sono andati via o se non la ti porto al mare e ti porto via grazie